I ragazzi abbiamo fatto bene, hanno voluto vincere, si sono dannati in l'anima, mi è dispiaciuto prendere il gol alla fine in quella maniera perché poi dopo basta un niente che poi butti via all'aria una partita fatta bene. Io sono contento e lo ripeto della squadra, mi fa piacere veramente per loro, devono continuare così, stare tranquilli, tirarsi fuori dai guai fino alla fine e basta. Penso che questi ragazzi abbiano fatto un cambiamento notevole, sono ragazzi che stanno esprimendo il loro valore, sono arrivati altri ragazzi a darci una mano, dobbiamo essere contenti, arriveranno altri penso, non molti ma altri arriveranno. Anche per completare se escano dei giocatori verranno sostituiti, tutto qui. Sono contento per il gol di Pascali perché quando sono arrivato io e battiamo quel cazzo d'angolo, l'abbiamo mai fatto una volta oggi, abbiamo prima sbagliato un gol sempre sulla solita situazione, quello mi fa piacere. Perez secondo me ha fatto una partita di una generosità e così Bacle quando è entrato. Io li voglio così, io sono contento così, poi il risultato può venire, poi uno a secca al novantesimo ci fanno due a due, però la prestazione rimane e fortunatamente hanno vinto e sono ancora più contento per loro.